E ci siamo amici biscotti, io sono Andreore, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nella mia serie Minecraft Hardcore, let's go! E signori, non ci potevo credere, cioè nel senso non ci potevo credere, ma abbiamo raggiunto i 700 iscritti, tu tu tu, si vola, let's go! Sì, non pensavo di arrivarci ai 700 iscritti, devo ringraziarvi uno, uno per uno, let's go! Ecco, perciò mi sa che è arrivato il momento, signori, è arrivato quel momento, dobbiamo preparare lo speciale 700 iscritti, perché sì, non è questo lo speciale 700 iscritti, ma è la preparazione per lo speciale 700 iscritti, perché sì, ho un grande progettissimo e volevo farlo insieme a voi. Ok, ok, come prima cosa, come prima cosa molto molto importante, ok, oh, oh, gioco per favore, per favore, iniziamo bene questo video, eh! Minecraft, non mi prendere in giro, per favore, iniziamo bene questo video, come prima cosa, comunque, prendiamo un bel po' di pietra. Che sound, ragazzi, che sound, no, scherzo, non era questo il piano di oggi, non era questo il piano per oggi, nel senso, sì, devo prendere un bel po' di pietra, ma lo farò un po' off camera, nel senso, mi metterò qui. Sì, io ho appena notato che lì mancano delle tramoge, ok, lì mancano delle tramoge che non so dove sono andate a finire. Mi sa che le metterò prima di iniziare a farmare tutta la pietra che ci servirà, perché ci servirà veramente tanta, tantissima pietra, che quella la farò off camera, non vi preoccupate ragazzi, non vi tedio con io che raccolgo pietra, intanto che ci sono, sistemo un attimo questo buco, perché effettivamente è leggermente antiestetico. Fatemi cercare giusto un attimo un po' di material, uno è qui, non ho più legna, non ho più legna, vabbè, usiamo un paio di assi classiche, va bene, va bene così, va bene così, perché pensavo di fare un super mega speciale, appunto 700 iscritti e naturalmente tutti i suggerimenti sono sempre ben accetti. Qua ci diventa questo, ok, è ritornato alla sua vera forma, è ritornato alla sua vera forma, direi proprio di sì, appunto in cui vorrei fare tipo una mega scritta con il 700, tipo, adesso dal di qui non si vedono ma lì in fondo, sì, se non mi sbaglio lì in fondo, dai ciliegi, e così iniziare anche a costruire la nostra base definitiva, perché questa per quanto sia bella e super giga fantastica è una base provvisoria per le farm, cioè nel senso è tipo una stazione di servizio per la nostra super, per le nostre super farm che costruiremo qui, quelle veramente giga enormiche, tipo una farm di esperienza, una farm di pietra, una farm di tutto quello che ci viene in mente, ma la nostra vera base, vera vera base, sarà lì dove ci sarà anche il 700 del 700 iscritti, che prima o poi diventeranno 800, perciò vi ricordo di lasciare un bel lecchino e iscrivervi al canale, così arriviamo agli 800 iscritti e mi rendete un biscottone felice. Ok, ma per costruire quel 700 come prima cosa devo raccattare un bel po' di sabbia, perché sì signori, la palla ce l'ho già, però mi sa che mi potrebbe finire in corso d'opera, perciò direi di farne una molto molto al volo, ma let's go che ne avevo già una qui, ci serve un bel po' di sabbia, un bel po' di sabbia e vedo già che il sole sta tramontando, perciò è perfetto, perché ci serve anche un altro componente essenziale, più che essenziale, indispensabile, e cioè un po' di polvere da sparo, e ci servono i creeper, e ci serve un qualcosa che faccia spawnare un bel po' di creeper, perciò intanto che aspettiamo la notte, prendiamo tutta questa sabbiolina, let's go, e pensavo che, visto che siamo arrivati a 700 iscritti, di comprare finalmente una tastiera nuova, perché questa per quanto sia super giga, fantastica, comodissima, bellissima, tutta RGB, eccetera, eccetera, ho notato che nei video fa un bel po' di casino, perciò ragazzi, mille mille like per la nuova tastiera che arriverà dopo lo speciale 700 iscritti, nel senso, sì, passerò un po' da un negozio di fiducia e andrò a comprare una tastiera magari non meccanica, perché fa un casino, che per quanto siano belle e fantastiche, fanno un bel po' di casino, l'unica cosa volevo proteggere, almeno la mia zona, dagli zombie creepers, eccetera, 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 perciò direi di mettere un po' di torcioline, ok, prima che si faccia buio, ok, giusto qui in zona per evitare qualsiasi problema problemoso, perché, nel senso, ho fatto tanta fatica per costruire tutta questa roba, non vorrei che un creeper infame, come è successo nello scorso episodio, dovete andarlo a recuperare, perché abbiamo rischiato di rimanerci secchi da un creeper, come nello scorso episodio, che un creeper da dietro le spalle, mentre gli stavo parlando, mi ha assalito ed è esploso, facendo un po' di danni, let's go, let's go, allora, ho un po' di, no, non ho neanche una freccia, neanche un arco, iniziamo veramente bene, iniziamo veramente perfettamente, allora, se non mi sbaglio, qui avevo visto una singola freccia, ma va bene, qui c'erano altre 6 frecce, qui vedo dell'accordo, c'erano, ma mi ricordo di possedere, io ce l'avevo un arco, io un arco mi ricordo che ce l'avevo, a quanto pare sembra di no, però qui abbiamo delle piume, magari se chiudo anche la porta è meglio, così non rischiamo che gente strana ci venga in casa, allora, allora, riflettiamo, qui c'è l'arco, perfetto, però ho poche frecce, le frecce, non mi ricordo come si facevano, T, R, E, con della selce, ce l'ho la selce, non mi ricordo signori se l'ho raccolta, penso proprio di no, perciò questo potrebbe essere abbastanza divertente, fatemi vedere se magari nelle ceste non ce n'è, però dovrei avere del ghiaino, neanche quello, perciò ci dovremo accontentare di queste sei frecce, di queste sei spuzzolosissime frecce, ma veramente? Pietra, Ardesia, 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 no, no, neanche un pezzettino di selce? Ok signori, a quanto pare la selce non è pervenuta, perciò direi che faremo la vecchia classica maniera, allora, innanzitutto andiamo a cercare subito quel creeper che avevamo visto, magari stando attenti a quel, è pieno di gente, è pieno, pienissimo di gente, dai, sì, sparicchiami, così intanto raccattiamo un po' di frecce, ok, questo è uno zombie un po' strano, allora, innanzitutto, tu zombie, vattene via, ok, tu sparami, perfetto, ok, ci avventuriamo nel buio, beh, solo per voi ragazzi, ragazzi, solo per voi io affronto queste insidie, e queste pericole, solo per voi, che beh, fortuna che ho la shader lì, che mi fa vedere comunque abbastanza bene al buio, perché sennò poteva essere un bel, ahiaio, bel problema problemoso, poteva essere un bel problema problemoso, ok, ahiaio, ok, perfetto, abbiamo raccattato altre due frecce, nice, però non ho ancora visto il creeper, non vedo ancora dei creeper nei paraggi, let's go, eccone uno, ma, ma certo che, ma certo che no, ma certo che no, io e la mia mira, la mia mira e me, ho colpito, ma certo che no, però si sta avvicinando un ragno che batte immediatamente via, ok, creeper infame, oh, allora, ma veramente, veramente sono così scarso? veramente sono così scarso? e ho finito le frecce, ok, speriamo che l'ultima spadata basti per perfetto, perfetto, più o meno, perché non mi ha detto neanche un singolo pezzo di gunpowder, però qui vedo già un altro creeper, qui vedo già un altro creeper, ok, beh, è bello l'effetto che non esplodere, non esplodere, perfetto, un colpo, non esplodere, non esplodere, ma, 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 ancora, ancora, mi sa che ne sarà una lunga, lunghissima notte, perché effettivamente volevo, volevo trovare almeno un pezzo di gunpowder, almeno da farvi vedere che ho trovato della gunpowder, e poi il resto magari la farmo off camera, perché penso che sarà una cosa lunghissima, perché volevo fare almeno, non dico 50 TNT, ma almeno 3-4, giusto per farvi vedere, giusto per fare una mega esplosione, un paio di rezzetti per, per la cosa, ma va bene così, ok, ho raccattato altre due frecce, vediamo se dal di qua riesco a colpirlo, perfetto, mister parabola, mi chiamavano, mi chiamavano mister parabola una, perfetto, magari si, che mi ha sparato, da dove, agliaio, agliaio, sparami, perfetto, sparami, e perfetto, intanto mangiamo un po' di pane, perché non dobbiamo assolutamente morire, dobbiamo stare molto molto attenti, e comunque questo ci ha dato un'altra freccia da sparicchiare a quel creeper, let's go, let's go, che l'abbiamo colpito, dimmi che mi hai dato un pezzo, nice, nice, serissimo, gun è anche un po' poder, così posso fare un po' di fuochi d'artificio per l'ufficiale, se ci sono tutti iscritti, intanto eliminiamo anche un po' di questi creeper, che, porca miseria, mi stanno antipatici proprio, intanto mi gratta anche un po' al naso, allora, allora, abbiamo lo scudo che hai messo un po' malino, perciò direi di andarcene a prendere uno di scorta, perché non si sa mai la mia fortuna che magari mi gira male, e tipo mi finisce lo scudo proprio mentre sto attaccando un creeper, allora, fatemi vedere se ce n'è uno che magari ho lasciato qui, dimenticato, ok, qui, facciamo uno switch al volissimo, perfetto, e ripartiamo all'avventura, magari se facciamo così è meglio, oh, oh, e qua vedo già un altro creeper, perfetto, perfetto, ah, cosa, cosa ci fai, tu, porca miseria, porca miseria, porca miseria, troppi nemici, troppi nemici, tu vattene subito, via, non esplodere, non esplodere vicino a casa, però, va bene, va bene che, però, ecco, un mini zombino, e anche il mini zombino ci si mette, porca miseria, la difficoltà, perché Minecraft è così difficile, perché Minecraft è così difficile, allora, eliminiamo il mini zombino, innanzitutto eliminiamo il mini zombino, allora, allora, mi serve, ok, mini zombino eliminato, allontaniamoci un po' da casa, perché qua vedo un po' troppa gente, e signor eating power, ok, questo è un po' abbastanza easy easy, easy easy lemon squeeze da eliminare, devo trovare un modo per, eh, per far fuori quei due zombie, che mi danno un bel po' di fastidio, ma senza, ok, ok, perfetto, perfetto, così dovrebbe andare bene, speriamo che, il creeper non mi esploda, vicino a casa, ok, ok, ci siamo allontanati il giusto, sì, sì, direi proprio di sì, ci siamo allontanati il giusto, direi proprio di sì, ok, l'ultimo colpo, e mica l'ultimo colpo, perfetto, perfetto, oh, 3 di gunpowder, perfetto, adesso possiamo eliminare tutti sti zombie, che, porca misera, che fastidio, che, ci danno, e se facciamo una farm, di, di quelli cosi lì, e forse era quasi meglio, forse era quasi molto più easy, però direi di, aggrare, innanzitutto questo, scheletro, che naturalmente mi deve colpire, naturalmente mi deve colpire, avvicinati, infame, ok, agliaio, ok, ok, perfetto, mi ha dato due frecce, qui vedo un altro zombie, di quelli brutti, però, ah, era quello di prima, era quello di prima, iniziamo ad avere un po' poca vita, perciò direi che, ci ritiriamo molto strategicamente, direi che, perfetto, così, ok, dovrebbe far giorno, tra poco, perciò poi dovremmo essere safe, dovrebbero rimanere solo i creeper, ok, un colpo, naturalmente il secondo colpo, lo deve sempre mancare, porca miseria, ok, si sta facendo l'alba, direi che, scappiamo, ok, perfetto, ok, un colpo, altro, uno di gunpowder, ma va bene così, ok, tu, eliminato, tu so che mi vuoi sparare, perfetto, perfetto, faremo questa avventura ragazzi, solo sul canale di Andrea Oreo, cioè, in una notte in cui io, sconfigo zombie, e mostro, va bene, va bene così, ok, ok, adesso dovrebbe essere un po' più safe, perché tutti gli zombie, e compagnia bella, dovrebbe, ok, prendere fuoco, perfetto, e, una volta preso fuoco, appunto, io ho campo libero, per cercare tutti i creepers in zona, ed eliminarli, e prendere altra gunpowder, ok, magari, se quello zombie, se ne va un po' al diavolo, forse è anche meglio, perché ho paura che mi dia fuoco, perfetto, ok, dovrebbe mancare l'ultimo colpo, yes baby, yes baby, allora, poi, se non mi sbaglio, da queste parti, avevo visto un ultimo creeper, che era rimasto vivo, se, let's go, eccolo lì, eh, ok, vieni qui, brutto infame, vieni qui, brutto infame, non esplodere, ok, ok, qua, fortuna che, mi sono ricordato che avevo un gradino dietro, ha un colpo non perfetto, ma va bene così, let's go, sei di gunpowder, perfetto direi, non dico che ci possono bastare, ma potrebbe essere già un inizio, per un qualcosa di fantasmagorico, perciò, facciamo una cosa, facciamo una cosa molto furba, e molto intelligente, prendiamo un po' di legno, che non è qui, non è qui, e non è qui, e non è neanche qui, andiamo a prendere un attimo un po' di legno, ce l'ho una sciazzo che ce l'ho, andiamo a prendere un po' di legno, non volevo abbattere i ciliegi, però mi sa che mi tocca abbatterne uno, perché sono gli unici alberi che sono cresciuti, sono gli unici alberi che sono cresciuti qua, mi sa che lì dovrò ripiantare prima o poi, perché sennò poi finiamo tutta la legna, perciò potrebbe essere un bel problema, problemosissimo, ok, prendiamo un po', prendi anche questo, perfetto, uno, dos, sento qualcosa che cadeva in acqua, un albuscello di ciliegio, perciò direi di ripiantarlo immediatamente, perfetto, tornare in casa e farci una bella cestolina, con tutto quello che ci dovrebbe servire, per appunto, per appunto lo speciale 700 iscritti, che non so se sarà il prossimo video, cioè nel senso, spero di riuscire a raccattare tutti i materiali necessari per farlo, ma per il momento abbiamo 6 di gunpowder, abbiamo 23 pietrisco, che mi sembra un po' poco, fatemi vedere se nelle ceste ne abbiamo dell'altro, direi proprio di no, abbiamo della pietra che comunque mi serve, abbiamo un paio di fornaci che me le volevo portare dietro, ok, qua c'è dell'altra pietra, perfetto, direi che mettiamo tutto in questa cestolina, per il momento, mangiamo una bella pagliettina, e poi direi che ci siamo, direi che i preparativi iniziano ad essere già quasi avviati, iniziano ad essere già quasi super avviati, e per oggi è tutto ragazzi, come in ogni video ti ricordo di lasciare un bel like, iscriviti al canale per non perderti nessun dei miei gameplay, ci vediamo al prossimo episodio, ciao ciao ne amici biscottoni! Ciao a tutti!